ci siamo l'abbiamo trovata la più tremenda della serata come ti chiami alice alice e questi chi sono al marito di alice ecco giustamente abbiamo il marito leggermente cercava una vergine quindi è squalificata alice ok ma no chiedevo perché il marito lo vedo lo vedo un po sparato è attivo attivo ma quello è perché è armato il marito è quello è molto geloso attenzione attenzione si sente guarda che la ragazza rischia di farsi male al gomito ecco ecco perfetto ma me li presenti un po me li presenti aspetta la mamma che è la mamma di chi dove vado aspetta alla mamma è arrivata con il bicicletta la mamma ha perfetto e ce l'hai con la suocera no no voglio venire la suocera ma questa che fai va via se ne va se ne va colpo di scena la mamma se ne va la mamma ha deciso ha deciso di menare me praticamente la mamma è la mamma è ecco fantastica è allegra è allegra la mamma la vedo allegra contenta di avere un genero così mi sa ok poi cosa allora guarda che felicità come sprizza gioia questa dove l'hai pescata zia zio e zia la zia che bella famiglia a tutti tutti i zii qua me ne manca una mortissia là in fondo mia zia la zia mortissia la cucina mortissia che bella famiglia allegra eh complimenti da dove venite bergamo da bergamo giusto treviglio 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 quindi è dice a me fa paura la mamma ecco anche la bambolina dietro è visto a pure fantastica veramente e vuoi dire qualcosa vuoi salutare la famiglia vuoi dire che gli vuoi bene a tutti ahhh com'è? ahhh no però eh ragazzi la mamma vuole dirvi una cosa ahhh 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 ma fa paura la mamma ahahah Ken sono rimasto senza parole c'è aheeh salutiamo con questo Tonabondi o salutiamo salutiamo抱 salutiamo ragazzi ciao famiglia allegra di bergamo ecco lì ahhh Ahi Lady